La rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione, turbativa d'aste e falso, chiusa l'inchiesta sullo scandalo migranti, queste le accuse emerse. Ne dovranno rispondere otto persone. Per loro la procura di Padova, PM Sergio Dini, ha chiesto il rinvio a giudizio. In tribunale compariranno a ex vertici della prefettura di Padova tre funzionari, tra cui due viceprefetti, Pasquale Averso e Alessandro Sallusto, con loro Tiziana Quintario, funzionaria prefettizia. Rinvio a giudizio anche per i responsabili della cooperativa Ecoficina ed Eco, Simone Borile, la moglie di quest'ultimo Sara Felpati, l'ex presidente Gaetano Battocchio. Ci saranno poi un ex dipendente della cooperativa e una consulente del lavoro. L'indagine, avviata dal PM Federica Baccaglini, ha portato alla luce la mala gestione dei centri di accoglienza che sarebbero stati affidati alla cooperativa pressoché in regime di monopolio. Faldoni con pagine e pagine, fatti di presunte soffiate sull'arrivo di migranti e sui controlli, centri hub dell'ex caserma Prandina a Padova, alla base di San Siro di Bagnoli, fino a Cona, nel Veneziano, attrezzati in modo inadeguato, dove uomini e donne vivevano in condizioni precarie e con personali ridotto all'osso. Appuntamento in aula il prossimo 18 giugno, data in cui è stata fissata l'udienza preliminare.